e riuscirà uno quello che ci metterai a caricare da adesso fino a gennaio io avevo detto che si entrava e si sentiva boom 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 no beh ma che pazzo siamo appena entrati hai la pistola silenziata? no guarda c'è quello che devo incidere e ci sono anche dei cani sono un po' vicini eh si eccole uno sono due volte e quelle mi fanno da sinistra devo ricaricare ahia mi sparano da est da est? si da qua mi è arrivato un colpo da qui no a lì c'è il ragno qui dentro mi sembra si c'è il ragno ah sono ieri sono ieri che è un giocatore quale? sono ieri sono tutti ieri Noi si sparava d'acqua e poi si era uno No! Sì! Sì! Noi! Noi si sparava d'acqua e poi si era uno Noi! Noi! Vuoi essere i miei migliori amici? Sono andati sotto, ho visto che la finestra è piena di sotto Aia, mi ha preso attraverso il legno E io non lo vedo uscire dalla finestra, qui non lo vedo Preso Sempre sotto? Sotto Ho andato sopra l'altro L'altro è andato sotto, è scappato, mi sa Aia Colpito Mi sto curando Preso Aia Mi colpiamo Aia Aia, in mezzo al fumo mi hanno preso? Non è sopra Ho colpito quello sotto Mi ha one shotato Mi ha preso in testa Sono saliti di la Vai che l'ha preso live Uno Ucciso quello a destra Vai morti Nice fight dude Che bel fight cazzo Sono contento Avevano il wind field con il mirino Ecco perché erano così precisi Sì questo c'aveva quello aperture con il mirino con il cerchio cose Questo qua c'è quello proprio quel mirino Sì è quello che mi aveva preso in testa Eh sicuro Però cazzo gli ho colpiti davvero tante volte Ma anch'io Però è stato Cioè è stata un'idea di merda perché c'eri te vicino Sì 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 ma però Ci hanno lasciati perché non mi hanno visto venire da te a rianimare Mi sa Mi sa Non mi hanno visto e quindi volevano tenere il cadavere Quindi ho lanciato live Quell'altro ivato Questo Hanno fatto la stronzata Non so perché l'abbiano fatto Ma hanno fatto la stronzata che ne hanno fatto morire Eravamo in pericolo perché siamo dovuti scappare lì sopra Cosa facevamo da lì sopra? Ci tiravano una granata ed eravamo morti Vabbè vediamo se allora il ragno è qua Andiamo a prendere A parte che con tutto il casino che abbiamo fatto Non verrà nessuno Ah no Vederci tutti Sento gente che spara Penso stanno facendo un bacio Ok no Oh sì è qui Infatti ok Lo sentivo Vorrei prima rendere un attimo le munizioni Perché sono un po' Io sono pieno Questo qui Non so Questo coso qua Questo Winfield ha 20 colpi Da sparare E io ne ho solo 7 Prendiamone qualcuno Ma è pieno Vabbè io comunque ho anche la pistola che è piena di colpi Io ho una nuova Non dovremmo avere problemi a fare Mi preoccupa più che altro Se poi ci rimangono a colpi Per uccidere chi viene a prenderci Boh a me rimango Ehi Mr. Ragno Non so se è una buona idea chiudere E che È che non so se è una buona idea Ah ma non va Lo vedo Vado mi sentivo i rumori me lo sono ritrovato addosso non so come questo ha trapassato tutto madonna ma l'hai distrutto qua ci sono le casse di munizioni ho sistemato la sense la pistola quella con il caricatore a tamburo sai con il perk che spari rapido se non miri è utilissima contro ragno a quanto pare perché li sparavo solo con quella ho tirato una lanterna scusa vuoi venire un attimo qua e dire cosa vengono dentro queste scatole niente si è bianco con pezzi di fucili no io non vedo i pezzi di fucili vedo bianco tipo un pavimento bianco di unturned è bianco con tipo dei modelli di fucili tipo c'è il calcio c'è il corpo ci sono le canne c'è una scatola ah mo sono apposso il mio massimo è 46 ah boh vedi se puoi prendere magari no 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 mi diceva già che non potete no no i'm already full day ok perfetto però non hanno fatto i baci e non hanno fatto neanche una nonna non star con la schiena sulla finestra madonna che ti sparano e l'avevo vista scusi donna francesco allora le uscite ne abbiamo una qua a fianco rischiosa ma allo stesso tempo potrebbe essere la più plausibile visto che è qua vicino tanto abbiamo il potere per vedere se ci sono persone ci sono altre lanterne? si nell'altra stanza dove c'erano le munizioni a sinistra mi pare ci ne avevo queste altre dietro RABBAAA io sono uscito fuori per lanciare la lanterna al quello grosso che devo uccidere per la quest e mi ritrovo questo con la cazzo di spada in mano siamo pazzi? che cazzo? ma che cazzo faceva qua? guarda che prendo il bounty e controllo perché mio dio ho sbagliato io sei uno stronzo mi spendi proprio ci sono altre? si c'è nemmeno è un'altra qua 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 non c'è nessuno che spaventa scusa il tipo dolore è? il tipo? ah no il mosche no vieni vieni andiamo di qua e dai si è spostato quando l'hanno con la mia bom proviamo bravissimo no lascia andare non sparati niente dai calcoli sono rimaste cinque persone se non è morta l'altra gente perché all'inizio oltre di stare vicino a noi io li sentivo verso il butcher quindi hanno kaitato presumo anche il butcher è ancora vivo per sicurezza ho avuto il big state pit no ok mi dicevi qui ne avevo uno lo prendo in mano e non ce l'avevo più bastardo ah vedi che bello usaggio che cazzo mi fa ciuccio quindi va bene niente è bella raffa salvini dimmi ascolti che reddito di cittadinanza vaffanculo bravi ti sei il mio fratello ci avevi uno zombie dietro avevi la faccia di uno zombie che ti spuntava dalla spalla ciao 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 ciao